Musica Cari telespettatori, rieccoci insieme, siamo in diretta con noi in studio Roberto Marcato, Presidente del Consiglio Comunale di Padova, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Esponente della Lega Nord e sotto questa veste incominciamo la nostra intervista, poi la proseguiremo anche come investe naturalmente il Presidente del Consiglio Comunale per dare alcuni chiarimenti perché ovvio dei giornali si estrappano alcune notizie, vogliamo capire alcune cose dal di dentro, poi ci sono fatti che riguardano la vita, la città di Padova ma in realtà riguardano tutto il nostro paese e a questo punto diventano problemi a macchia d'olio indistinti. Allora, tutto sommato, anzi, un trionfo per la Lega inatteso, ve lo auspicavate quello delle elezioni appena chiuse in Emilia Romagna, come l'avete vissuta? Ma ovviamente è stato un risultato straordinario, inatteso non tanto perché in campagna elettorale ma poi anche parlando con la gente si sente che su di noi c'è una grande attenzione. Io incontro quotidianamente persone che ti chiedono di non mollare, di andare avanti e credo che Matteo Salvini, perché gran parte del successo della Lega di oggi è del segretario federale Salvini, ha individuato quei due o tre temi che sono della gente e questo è sicuramente il primo elemento di successo. Il secondo elemento di successo è che Matteo è così come lo vedete in televisione e credo che la gente questo lo percepisca. Quindi lui ha ripulito l'immagine della Lega che ha avuto un debattolo. Sì, ma come era Bossi quando era segretario, sono persone che tu li trovi al bar, che li vedi in televisione, che li trovi a un comizio, sono sempre uguali a loro stessi. Questa genuinità, questo aspetto vero anche del politico, alla gente piace, uno può essere d'accordo, non d'accordo, ma non può dire che Matteo Salvini in mente. Oggi più che mai il cittadino ha bisogno di avere un rapporto con il politico e che il politico sia una persona genuina. Ecco, quali sono i punti di debolezza dell'opposizione su cui avete avuto più appeal? Perché a parte quello che è successo in regione Emilia Romagna, insomma, sono stati dei fatti gravi anche in altre regioni, però senza dubbio hanno indebolito la parte sinistra, perché è inutile dire che ha vinto il PD, però sostanzialmente c'è stata una perdita di voti terribile. Sì, credo che fondamentalmente la sinistra oggi abbia un problema, che è quello di, dovendo mantenere alta l'attenzione su Matteo Renzi, stanno raccontando ai cittadini italiani una serie di sciocchezze madornali. E credo che la luna di miele, lo sappiamo, insomma, con il politico di turno prima o poi finisce. E oggi si va al vedo. Matteo Renzi, a cui riconosco, intelligenza, capacità, caparbietà, sicuramente un grande entusiasmo, si è presentato dal primo ministro con tutta una serie di intenzioni, di promesse. Tra l'altro ha fatto un errore madornale mettendo delle scadenze, cosa che in politica diventa un'arma a doppio taglio, perché se tu le scadenze le rispetti, diventa un'arma il leader incontrastato. Se non le rispetti, la gente è disposta a perdonarti per un po', dopodiché però il sogno crolla. Ed è quello che sta accadendo oggi. E tutta la sinistra però è, come dire, concentrata perché questo sogno si autoalimenti. E diventa difficile, io lo vedo anche in altri talk show, parlando con i cittadini, diventa una forzatura, quasi una violenza nei confronti del cittadino. Perché lui dice, sì ma tu avevi detto che sì però, questo sì però, che al cittadino che ha perso il lavoro, che ha un problema di sicurezza, che ha il problema del figlio che non riesce a trovare una collocazione professionale adeguata, che non arriva a fine del mese, quel sì però gli dà tremendamente fastidio. Allora è meglio che un politico dica innanzitutto le cose che può fare e abbia una visione strategica a medio e lungo termine. Ed è quello che Matteo Salvini oggi sta facendo. E la debolezza della sinistra fondamentalmente è questa, è tutta concentrata per mantenere, come dire, inalterata la figura del leader. Ed è sbagliato, cioè il leader o è forte di suo e quindi trascina il partito, oppure prima o poi svilisce la sua immagine e con lui però si porta dietro anche il partito. Ed è quello che è successo nelle elezioni regionali ultime, sì, per carità, hanno vinto. Hanno vinto in Emilia Romagna, dove era scontato, però non c'è giornale di destra o di sinistra che dica in realtà il dato più eclatante è il consenso della lega da parte e l'attenzione dall'altra. Ecco l'attenzione, esatto, che è stata sminuita un po' dalle parole di Renzi, dicendo vabbè, insomma l'attenzione non è poi così rilevante da tenerne in conto. Insomma, ci sono alcuni poi politologi che hanno tenuto fuori i dati degli Stati Uniti, dove comunque è un continuo a scendere nelle partecipazioni elettorali. Voi come la vedete? Ma allora, intanto i paesi anglosassoni hanno una tradizione completamente diversa dalla nostra. Loro da sempre hanno una forte astensione, nonostante siano molto mediatiche le elezioni americane hanno una forte astensione. Noi abbiamo una tradizione completamente diversa. Cioè noi fino a qualche anno fa, chi non andava a votare era quasi tacciato di aver fatto chissà quale reato, era un imperativo morale quello di andare a votare. Per cui oggi ogni volta che un elettore decide di non scegliere per la politica è una sconfitta enorme. Per chi fa politica è una sconfitta enorme. È come per un venditore avere la merce in magazzino e non riuscire a venderla. È la stessa cosa. A volte perché magari non si vuole rendersi conto che è così che ragiona l'elettorato. L'elettorato si astiene per grande disinteresse, disgusto, distacco per protestare. Perché anch'io ho sentito che chi non vuole andare a votare lo fa sostanzialmente non perché non ha tempo o perché deve andare dove deve andare, ma proprio perché c'è una protesta che pensa di manifestare in questi termini. Magari. Allora, se fosse sempre così come dice lei, io potrei essere anche soddisfatto. Perché un elettore che protesta è ancora un elettore vivo. È un cittadino che crede ancora, perché se uno protesta, ha ancora un atteggiamento attivo nei confronti della... All'elice proprio c'è la deve. Invece credo che ci sia una sorta di remissione, di rassegnazione. Ed è questo il dato più preoccupante oggi che viviamo in Italia. Il paese è rassegnato. Ed è un pericolo enorme questo. È un pericolo enorme. A perché c'è il rischio di derive poi populiste anche pericolose. E B perché c'è il rischio che una classe dirigente non adeguata possa fare tutto ciò che vuole senza il controllo del popolo, che è sovrano. Ed è sempre sovrano il popolo. Lei parla di derive populiste, un po' come si stanno manifestando a Roma in certe borgate. Sì, d'altronde dove c'è la vacanza della politica, dove c'è l'assenza della politica, il cittadino si arrangia. D'altronde tu non puoi andare da un cittadino che ha un problema di convivenza con gli extramunitari pesantissimo. Che non riesce a uscire alla sera perché ha paura. Che si trova le deiezioni di questi signori sul portone di casa. Che si trova la casa occupata e andargli a dire sei intollerante. Perché uno, è chiaro che la sua reazione è violenta. Ma cosa dovrei essere? Mi trovo la gente alle 4 di notte in casa mia. Rischio di essere picchiato a sangue. Rischio di farmi portare via tutto ciò per cui ho lavorato. Addirittura mi occupano la casa. I giardini pubblici non sono più miei ma sono di disperati, sbandati, drogati eccetera. Io alzo il dito dicendo tutto ciò non mi piace perché è il mio paese e la risposta che ti dà il sindaco di turno o la politica è ma tu sei un intollerante o sei razzista. No perché oltre a non voler affrontare il problema è un'offesa tremenda una violenza tremenda che si fa al bene supremo che abbiamo come paese che è il nostro cittadino e prima di tutto viene il nostro cittadino. Ecco voi cosa proponete a questo punto per uno di questi problemi che comunque riguarda tutto il nostro paese. Io ho citato Roma perché adesso è gli onori della crona che è anche facile fare servizio su Roma. Poi basta andare in altre città non solo a Milano ma anche in Veneto ci sono situazioni analoghe. Andiamo a due carrare hanno avuto dei problemi e hanno dei problemi di non conto. Una palazzina addirittura una famiglia di rumeni vuole andare via diciamo nazionalizzati perfettamente, integrati perché hanno dei profughi nel palazzo e non riescono più a dormire, stare e vivere. Quindi esempi di tutte le parti. Ci sono due piani. Un piano è politico. Ci sono delle azioni profondamente sbagliate. Penso a Mare Nostrum. Sperperare milioni e milioni di euro che potrebbero andare invece ai servizi sociali per aiutare famiglie di italiani in difficoltà che vengono spesi per andare a raccogliere disperati, che lo sono disperati, e portarli dentro i nostri confini. Però siamo tenuti d'accordo internazionale. Ma anche lì siamo tenuti e com'è che siamo tenuti solo noi? Anche là io vorrei capire per quale motivo noi siamo sempre il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Perché tutti gli altri paesi se ne disinteressano altamente e non gli succede nulla. Noi dobbiamo sempre essere i primi della classe e anche là. Io rispetto i patti. Se tutti rispettano i patti, io dico vado a prendere questi disperati in mezzo al mare. Benissimo. Allora tu, comunità europea, però mi dai la certezza della gestione di questi profughi. No, loro dicono tu li vai a prendere e ti arrangi. Non abbiamo risorse, non abbiamo uomini, ma soprattutto ho i miei padovani, i miei veneti, i miei italiani, che stanno patendo la fame. E questo è intollerabile. E questo è un aspetto politico. Poi c'è un aspetto, come dire, più amministrativo. Ed è la certezza della pena. Io non ho capito per quale motivo. Per esempio, una famiglia di Rom che non manda a scuola i bambini e che li usa per l'accattonaggio, a queste famiglie i bambini vanno presi. Vanno presi, tolti i dati e i servizi sociali. E secondo me, una famiglia che fa il reatto più grande è quello di rubare la fanciullezza a un bambino, costringendolo a mendicare. Questi vanno presi e messi in galera. Non ho capito perché se una madre italiana fa qualcosa che non funziona, non funziona di un figlio, arrivano a carabinieri, polizie, portano via, affanno. E questi qua invece c'è una sorta di tolleranza per cui, ma sì, un bambino di 6 anni, di 10 anni, deve andare a scuola, deve giocare con i propri coetanei, non deve andare a rubare, non deve andare ai semafori, non deve andare a vivere nella sporcizia in mezzo ai topi. Ci sono i topi? Mi dispiace tanto. Io il campo Rom per motivi igienico-sanitari lo chiudo. Se tu ti metti in regola e mandi il figlio a scuola, bene, altrimenti il figlio io te lo tolgo dai servizi sociali. E chi obietta dove andranno? Qua ci mettiamo anche in una situazione che riguarda anche la città di Padova, no? A gennaio dovrebbero essere la chiusura di questi campi. Ma certo, ma anche là, situazioni intollerabili. Vuoi rispettare le regole? Bene, non le rispetti. Io ti metto in condizione di andartene via, ritorno al tuo paese. Anche qua smettiamo questa roba, per esempio, dei profui, tutti dicono ma sono profui e scappano dalla guerra. Intanto è dimostrato proprio statisticamente che solo il 10% sono profui di quelli che arrivano. E quindi a quelli bisogna dare una risposta di un certo tipo. Il resto sono disperati che partono da paesi dove c'è una forte crisi sociale, politica ed economica. Ma siccome questa crisi ci sarà e peggiorerà sempre, quello che io chiedo ai nostri governanti è, ok, oggi ne arrivano 100 mila, ma se domani ne partono 200 milioni, cosa facciamo? Accogliamo 200 milioni e se ne parte mezzo miliardo accettiamo mezzo miliardo, cosa facciamo? Lasciamo le nostre case, ci rifugiamo noi in montagna per lasciare le nostre città a questi disperati. La massa di disperazione che arriverà, che premerà verso i nostri confini, sarà sempre più forte. Ed è per questo che noi dobbiamo avere una visione, anche a medio e lungo termine, di gestione di queste crisi diversa. Deve cambiare anche l'atteggiamento dell'occidentale. Noi abbiamo un senso di colpa atavico nei confronti di questi paesi. Ma non è colpa mia se in Africa si ammazzano dalla mattina alla sera, perché sono guerre tribali da una parte e di religione dall'altra. Che cosa c'entra all'occidente fra due fazioni di islamici che si ammazzano tra di loro? Che cosa c'entro io? Che sono cristiano. Nulla. Anzi, i cristiani li ammazzano pure e invece abbiamo questo senso di colpa ed è per questo che noi abbiamo anche poi questo senso di colpa, lo trasformiamo in azione amministrativa. Ed è fondamentalmente sbagliato. Quindi una forma di debolezza. Assolutamente. L'occidente è assolutamente debole. È una politica debolissima la nostra. Ecco, tra l'altro a proposito di debolezza dell'occidente, adesso abbiamo il problema anche di carattere economico con la Russia, che è un'altra situazione. Come l'avreste affrontato voi? Perché si aspetta la legge sul Made in, che dovrebbe essere il 4 dicembre, che potrebbe tutelare, però in realtà non è risolutiva. Intanto stiamo subendo dei danni pazzeschi. Anche là noi continuiamo a fare... Siccome siamo... L'Europa è molto debole. Allora nasconde questa debolezza strutturale con azioni di forza eclatanti, che sono poi annunci. Di fronte a una presunta, che poi è tutta da verificare, l'invasione della Russia in un paese collaterale, la reazione pseudomuscolare dell'Europa è l'embargo. Noi chiudiamo i rapporti economico-finanziari con la Russia. Non rendendoci conto, A, che la Russia se ne fa un baffo delle nostre prese di posizione, B, che gli unici a patire sono gli imprenditori che lavorano con quei paesi. Perché poi il problema è questo. Allora, che cosa servono queste cose? L'unico risultato che hai è che la Russia continua come prima. L'Ucraina continua come prima. L'unico dato è che i imprenditori padovani non riescono a lavorare con questi paesi. E visto che siamo anche in asfissia economica, andiamo ad aggiungere criticità a criticità. Questo è la grande... Per cui anche qua le diplomazie non funzionano. Ma perché non funzionano? Perché noi non siamo autorevoli. L'Europa non è autorevole. Ecco, quindi la posizione che ha preso Renzi decisiva nei confronti di accettare, quindi questa situazione di embargo poteva anche opporsi in fini conti. Ma certo, ma si oppone di fronte a che cosa? Ma allora, già l'Italia non conta nulla nel panorama internazionale. Non conta nulla nemmeno l'Europa, figuriamoci che cosa conta Renzi. Ma lui ce la mette anche tutta. Il problema è che noi non siamo autorevoli, ma non lo è l'Italia come non lo è l'Europa. È in grosse difficoltà anche l'America, figuriamoci, nelle scacchieri internazionali. Anche l'America ha dovuto rimangiarsi la parola un milione di volte e doveva andare via dall'Afghanistan. Adesso invece Obama ha cambiato le regole di ingaggio. Cioè là continuano a sparare, il punto è a capo. Perché la diplomazia non funziona? Perché manca autorevolezza? E io sono convinto che sia un problema strutturale di pensiero. Noi abbiamo questo senso di colpa, noi occidentali, nei confronti di quei paesi, per cui l'atteggiamento è sempre remissivo e in quanto remissivo diventa poi violento. E ora usiamo la forza. E allora mi chiedo che cosa saranno le diplomazie internazionali. A questo proposito, tornando quindi ai problemi anche di casa nostra che sono tanto importanti, come è messa la situazione nella città di Padova nei confronti delle persone che stanno arrivando, perché se ne parla altre, e delle occupazioni, perché esistono anche qui questi problemi. Ma noi abbiamo voluto dare un segnale forte immediatamente ai cittadini padovani che ci hanno eletto anche per questo. Abbiamo fatto una campagna naturale incentrata sul tema della sicurezza e per noi la sicurezza è il tema oggi, assieme a quello del lavoro. Abbiamo fatto delle modifiche al regolamento di polizia locale, adesso è arrivato un nuovo comandante, intendiamo rinforzare il corpo di polizia con l'inserimento di nuove unità da parte appunto dell'amministrazione. Ci sono risorse per fare questo? Ma le troviamo. Cioè è anche là una questione di scelta. È chiaro che le risorse sono poche, però noi lasciamo perdere altre cose che reputiamo inutili, perché poi quando il popolo ha fame, la prima cosa di cui ti devi preoccupare è il pane, perché se c'è anche la maionese va bene, ma il pane è la cosa più importante. E noi abbiamo deciso di fare questo. Abbiamo ricevuto un'eredità pesantissima. Troppi anni in cui abbiamo speso centinaia di miliardi di euro per fare le feste interetniche, sempre questo senso di accoglienza, ma quell'accoglienza un po' ludica, dove facevamo le festicciole e il torneo interraziale di calcio e le case date. Per esempio noi abbiamo deciso di dare un punteggio nettamente superiore a chi è residente da un tot di anni a Padova. Oggetto del Consiglio Comunale di ieri, no? Sì, tra le altre cose c'era anche questo. Che siete stati, avete avuto un'opposizione netta da parte dell'opposizione, no? Sì, un'opposizione netta, non rendendosi conto che, a parte che noi andiamo avanti come un treno, non è che ci fermiamo perché l'opposizione fa il cosiddetto filibustering, cioè ci mette i bastoni fra le ruote. Noi siamo convinti che ogni azione che facciamo sia per il bene del padovano. Per cui, insomma, anche se fanno istruzione la fanno e la fanno A perché non si vogliono rassegnare ad aver perso le elezioni e B perché, come dire, fare il sindacato di una parte di Padova, magari di quella estra-munitaria, è l'unica cosa che è rimasta alla sinistra padovana oggi. Noi abbiamo il dovere di tutelare prima i cittadini padovani. Quindi faremo di tutto perché ad avere le case, ad avere gli aiuti finanziari, ad avere gli aiuti economici, siano prima di tutto i padovani. Ma anche qua, quando diciamo sei razzista, se io avessi soldi per tutti, ma è chiaro che aiuto tutti, ma avendo quattro lire a disposizione e dovendo scegliere fra un extra-munitario che è arrivato l'altro ieri con quattro figli, per carità, e un mio cittadino che ha lavorato per 40 anni e che oggi è in difficoltà e ha una moglie ammalata, a carico e non riesce ad arrivare a fine mese, io francamente se ho due lire la do a lui e se ho una casa la do a lui. Ma è quello che faccio fatica a capire? È così difficile capire che è giusto fare così, cioè che è etico, che è morale. Uno ha lavorato qua a 40 anni, ha versato i contributi, poi da Veneti hanno sudato 40 camice, sono alzati alle 5 di mattina, sono spaccati la schiena per farla a casa, oggi che non riescono a pagare l'affitto rischiano anche di perdere quel poco che hanno e vedono che magari arriva l'elettro-munitario gravato l'altro ieri e i 1000 euro di bonus li do a lui. Io lo trovo immorale, non solo amministrativamente, ma proprio umanamente immorale. Cosa viene obiettato dall'opposizione a questo punto? Siamo razzisti fondamentalmente, che giochiamo sulla pelle dei bambini, anche qua poi. Io trovo davvero sconcertante e eticamente e deontologicamente discutibile che si usino davvero i bambini per battaglie politiche di questa natura. E anche qua purtroppo se sono costretto, uso bene le parole, se sono costretto a scegliere fra un bambino italiano e un bambino senegalese, io scelgo il bambino italiano e padovano, punto. Se ho la possibilità è chiaro che mi farò in quattro per dare una risposta, perché i bambini A non hanno colpe, che siano italiani o che siano del Bangladesh, non hanno colpe, hanno un'innocenza dettata dalla loro natura, per cui figuriamoci. Ma se io devo scegliere, non avendo risorse per tutti, devo dare una priorità prima ai padovani. Ecco, avete avuto anche l'opposizione per quanto riguarda la riduzione delle tasse, stavo leggendo. Ci siamo stati tre ore. Io ho dovuto gestire per tre ore il Consiglio Comunale, per tre ore. e l'incipit degli interventi dell'opposizione erano i seguenti. È logico che siamo d'accordo sulla riduzione delle tasse, ma... Ma però non ho detto di no. Non ho detto di no. Ma che? Cioè per una volta a Padova riduciamo la pressione fiscale nei confronti degli esercenti, perché forse questi non hanno capito che per creare posti di lavoro sia qualcuno che ha un'attività. Non è che i posti di lavoro si creano come succede in Calabria assumendo forestali inutili. Non è così che funziona. Cioè serve una ditta, una fabbrica, un'azienda che fa un prodotto e assume delle persone. Punto. Allora, un esercizio pubblico che vende un prodotto, dà lavoro a tutti, fa economia. Abbiamo deciso di ridurre le tasse a chi ha il bar, a chi ha i plateatici. Anche l'altro. Tre ore in discussione. Questo è un paese malato. L'Italia è un paese malato. Perché perdere tre ore, che vuol dire costi dei consiglieri, costi dei dirigenti, costi degli scaldamenti, costi per dire di no alla riduzione delle tasse, è una follia. Alla fine è stata ridotta la tassa. Ma certo, ma che discorsi? Ma ci mancherebbe? Noi siamo qua per questo. Era un impegno preciso che abbiamo preso in campagna naturale. E con tutto rispetto per l'opposizione, ma quando siamo convinti che la nostra azione vada a favore dei cittadini padovani, noi andiamo avanti come dei treni. Chiarissimo. Andiamo avanti anche noi. Pubblicità a pochi secondi. Poi stiamo di nuovo a raccontarvi alcune novità.